I cittadini ci hanno tradito, quindi sindaco che si è riconfermato, questa realtà e le azioni compiute in questi cinque anni hanno poi portato sdegno e rabbia agli abitanti della città della famiglia si possono tenere. Abbiamo fatto un bel percorso, abbiamo poteva essere un'alternativa e un nuovo progetto che i cittadini potessero confrontare con quello fatto negli ultimi cinque anni ma non lo volevano. Prendiamo atto di quello che era e poi ci comporteremo di conseguenza. Con queste parole Fabio Perri, candidato sindaco di Vallecrosia, commenta l'esito delle elezioni amministrative che, alla fine, hanno riconfermato il sindaco uscente Armando Biasi. Non sono diventato sindaco ma sono comunque contento del grande spirito squadra e amicizia c'è stato in questa campagna elettorale con tutta la mia squadra, miei sostenitori e i miei amici che hanno fatto in modo poter arrivare a questo risultato aggiunge Perri i numeri vanno letti. L'attuale sindaco si conferma con un 18%. Prendiamo quindi atto cittadini vogliono questo tipo amministrazione. Abbiamo fatto un lavoro di contestazione in via Don Bosco ma alla fine abbiamo perso anche in quel posto, probabilmente era cambiato qualcosa. Andremo in minoranza, saremo pronti e disponibili e prenderemo la nostra strada. Faremo una minoranza di natura diversa, visto che 5 anni di minoranza propositiva non sono serviti, annuncia Perri siccome mi hanno detto che sono polemico, polemico lo farò con azioni anche diverse. Il confronto lo faremo, se non ce l'abbiamo, anche con carta e penna se è necessario fare l'esposto.